Ben trovati all'appuntamento con l'informazione, parliamo innanzitutto dell'inchiesta sui brogli elettorali a Carlentini, sette le persone raggiunte dall'avviso di conclusione indagine, si tratta di Presidente e altri componenti di seggio, la Procura ha aperto un'inchiesta, le amministrative sono quelle del 2018, i particolari nel servizio Enello Lafate. A conclusione delle indagini delegate dal sostituto procuratore della Repubblica di Siracusa, Andrea Palmieri, gli agenti della DICOS della Questura di Siracusa hanno notificato a sette indagati l'avviso di conclusione delle indagini preliminari per quanto riguarda le elezioni amministrative a Carlentini del 2018. Le indagini, scatolite a seguito della presentazione di un esposto di alcuni candidati consiglieri, hanno riguardato le operazioni di voto delle consultazioni amministrative del 2018 per l'elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale di Carlentini ed in particolare in una sezione nella quale erano segnalate alcune irregolarità. All'esito delle indagini e delle opportune verifiche degli atti elettorali e delle schede di voto, il Presidente e tutti i componenti del seggio sono ritenuti responsabili di aver inserito false indicazioni nel verbale delle operazioni elettorali e negli atti ad esso collegati, dando atto, dopo l'avvenuto scrutinio, di un numero di voti non corrispondenti al vero. Il confronto tra i dati riportati nei verbali e quelli reali rilevati dai nuovi conteggi dei voti disposti dall'autorità giudiziaria nel corso delle indagini hanno fatto emergere che nel verbale risultava un voto ad un candidato che in realtà ne aveva ricevuti 15 validi. Caro tributi a Siracusa, al centro di un intervento del Movimento Siracusa protagonista che punta il dito contro l'amministrazione comunale, sentiamo tutto in questo servizio. In questi giorni i poste italiane con gravi ritardi stanno recapitando ai cittadini degli avvisi di accertamento per omesso o insufficiente versamento sulla Tasi del 2014 da parte del Comune di Siracusa con un provvedimento che porta la data del 4 dicembre 2019. A denunciarlo è Siracusa protagonista con Vinciullo. Al di là dell'anomalia tra quanto dichiarato dal Comune e da poste italiane che dichiara quest'ultima di aver ricevuto questi avvisi di accertamento solo il 23 dicembre e della presenza di due modelli di pagamento, un F24 e un conto corrente postale, nonostante il Comune avverta a tutti i cittadini che il versamento va fatto solo attraverso il modello F24 e antecedentemente aveva detto che potevano essere utilizzati anche i conto correnti, quello che è accaduto non è accettabile. L'ex parlamentare Enzo Vinciullo e l'ex consigliere comunale Salvatore Castannino chiedono all'amministrazione comunale di inviare un riepilogo delle imposte e delle sanzioni senza indicare il motivo che sta alla base di questo insufficiente omesso versamento. Ora sembrerebbe, dopo la prima lettura delle cartelle, dal momento che le stesse sono state ormai chiare, che alla base di questa scelta dell'amministrazione comunale vi sia la volontà di fare cassa e anziché utilizzare, come doveva essere fatto, la delibera del Consiglio comunale che aumenta la detrazione a favore delle famiglie a partire dal secondo figlio, abbia voluto utilizzare la delibera di giunta comunale con la quale le detrazioni si aprono solo a partire dal terzo figlio. Per cui questi 30 euro, che poi diventano quasi 52, sono frutto di un'errata applicazione della volontà del Consiglio comunale di Siracusa. Di conseguenza, Vinciullo e Castagnino invitano tutti i cittadini a verificare se questa norma di cui si chiede il pagamento è dovuta all'esenzione per il secondo figlio e nello stesso tempo invitano l'amministrazione comunale a intervenire rettificando le cartelle inviate e in autotutela annullare le stesse onde evitare un inutile e odioso contenzioso con i cittadini. Il Comune di Siracusa sta essorcendo ulteriori somme ai cittadini. Io, a seguito dell'attività professionale che ricopro, non posso dire non pagate le tasse, però posso dire state attenti e fatevi controllare ogni avviso che vi arriva. Perché stanno arrivando queste cartelle dell'importo di circa 30 euro della Tari e della Tasi che devono essere attenzionate. Attenzionate perché? Perché il Comune, nello specifico chi deve tutelare i cittadini all'interno di un ufficio amministrato, ovvero l'assessore, in questo caso il sindaco, perché è il facente funzione come assessore all'interno del settore, non controlla perché oltre a tagliare nastri non sa fare altro. Perché? Perché stanno applicando la proposta del regolamento Tari e Tasi del 2014 e non l'atto deliberato. Sono arrivate queste cartelle che, mi avviso è un abuso, sono arrivate anche delle cartelle. Dal 2014 vedi i garaci di pertinenza e di non pertinenza. Quando i cittadini vanno a fare la residenza e dicono dove abitano, l'accettamento viene fatto sullo stabile. Ora non è possibile, è giusto che devono pagare. Non possono pagare tassa, interesse, mora ed altro, e pagare il triplo di quello che è l'accertamento generale. Pertanto io chiedo all'amministrazione di attivarsi subito per non far pagare i garaci del 2014, quindi quello che è giusto pagare, ma non fare pagare le sanzioni che sono, a mio avviso, un abuso. Noi ci troviamo di fronte ad una situazione di dissociazione totale dell'amministrazione da quelli che sono i problemi della città. Premesso che noi non riconosciamo questa amministrazione perché il Tare di Catania ha annullato i risultati delle elezioni comunali per quanto riguarda la città di Siracusa. Ma al di là di questo noi ci rivolgiamo ai funzionari, ai dirigenti del comune di Siracusa, affinché con l'attenzione, le capacità, le competenze che hanno sempre dimostrato negli anni, ma che hanno perso da quando c'era prima l'amministrazione, Garozzo Italia e ora Italgarozzo, riacquistino queste competenze e queste capacità. Adesso parliamo della strada provinciale Noto-Pachino con ordinanza del Libero Consorzio Comunale Siracusa. È stata chiusa la strada per eseguire i lavori di costruzione della bretella di collegamento tra lo svincolo autostradale di Noto e quindi la stessa provinciale. I lavori commissionati dal CAS saranno realizzati dall'impresa Tosa Appalti e termineranno entro il 4 maggio e non dopo 5 mesi, come presentemente comunicato dalla stessa Tosa Appalti. Comunque la preoccupazione rimane, così come spiegato dal CNA Balneari. C'è preoccupazione diffusa non soltanto tra la politica e la popolazione della zona sud della provincia, ma soprattutto tra gli operatori commerciali ed economici. Parliamo soprattutto dei lavori della strada provinciale Noto-Pachino per la quale sono iniziati i lavori di ammodernamento. C'è preoccupazione soprattutto tra la CNA Balneari che segue un grande interesse e moderata preoccupazione la vicenda legata a questi lavori, perché si tratta di un'arteria strategica per l'accesso alla zona sud del nostro territorio. A intervenire Gianpaolo Miceli, coordinatore regionale della CNA Balneari. Inutile ribadire quanto fondamentale sia quella strada per l'accesso alle zone balneari del sud della provincia, dice Miceli, dove gli operatori del settore e i tour operator hanno già avviato la programmazione per la stagione 2020. Il sindacato è consapevole dell'importanza della fine del cantiere che permetterà un migliore interfacciamento con l'autostrada. Pur considerando l'interruzione dell'arteria per tutto il mese di aprile è già un danno per molti degli operatori. Non si può che accettare il momentaneo disagio in previsione di un asse viario finalmente concluso, più moderno e funzionale. Ogni eventuale ritardo rispetto ai tempi promessi all'assessorato alle infrastrutture e trasporti, però, questa è la nota appunto di Miceli, oltre a rappresentare un danno enorme per le aziende balnearie e in generale per tutto il settore produttivo, andrebbe a conclamare l'incapacità per questo territorio di immaginare una qualsifoglia programmazione a medio e lungo termine lasciando come marchio indelebile, ma ormai inaccettabile, quello di terra delle incompiute. I parlamentari di Italia Viva all'Assemblea regionale siciliana, Luca Sanmartino e Giovanni Cafeo, hanno presentato un'interrogazione in merito proprio alla chiusura che era prevista per cinque mesi, ma abbiamo saputo proprio dal Libero Consorzio che così non sarà. La chiusura, dicono i due parlamentari, determina gravissimi disagi per la popolazione, per l'attività economica dei comuni di Pachino e Portopallo di Capopassaro, in assenza anche di un'adeguata viabilità alternativa. Vogliamo sapere dall'assessore Falcone, scrivono che tipo di intervento è previsto e quali azioni intende intraprendere il Libero Consorzio per medicare l'impatto che avrà sui cittadini e gli operatori economici della zona. Adesso la cronaca, ancora le piazze di spaccio al centro di operazioni delle Forze dell'Ordine. I poliziotti della squadra mobile hanno arrestato due persone che detenevano hashish, cocaina e anche marijuana, ma ritengono di essere al fulcro di un'ingente attività di spaccio. I poliziotti della squadra mobile con unità cinofile della questura di Catania hanno arrestato il siracusano Pasqualino Daidone, 51 anni, già noto alle forze di polizia per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti e detenzione illegale di munizionamento di arma comune da sparo. A seguito di servizi, contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire e sequestrare 66 ovuli e un panetto di hashish del peso di 906 grammi, due bustini di marijuana del peso di 1.280 grammi, tre involucri contenenti cocaina per un peso di 37 grammi. E' stato rinvenuto del materiale per il confezionamento, di cui quattro coltelli a serramanico intrisi di hashish, quattro bilancini elettronici, materiale per la cottura della cocaina e 39 cartucce ricaricate calibro 9. Il quantitativo di droga sequestrato e la sua varietà sono indizi di una fiorente attività di spaccio. Il materiale per il confezionamento rinvenuto lascia ritenere di essere in presenza di una vera e propria centrale per la produzione e lo spaccio di droga. Nel proseguo dell'attività, i poliziotti della squadra mobile hanno arrestato Giuseppe Noto, 28 anni, deve rispondere del reato di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. Gli investigatori della mobile, su indicazione del cane Up, hanno concentrato la loro attività su uno stabile nei pressi di Via Mordini e in particolare nell'abitazione di Noto. Dopo una curata perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 600 grammi di marijuana, 74 grammi di cocaina. Anche in questo caso il quantitativo di droga sequestrato lascia ritenere che, come per Daidone è anche noto, sia il centro di un'altrettanta fiorente attività di spaccio. Quest'ultima operazione, che ha portato all'arresto dei due presunti spacciatori, si inquadra nell'ambito dell'azione mirata alla disarticolazione dell'attività di vendita di droga nell'ambito delle cosiddette piazze dello spaccio. Sempre per quanto riguarda le operazioni di spaccio, i carabinieri hanno arrestato due fratelli, sono stati i carabinieri della tenenza di Floridia ad arrestare Stefano Garofalo e Maria Consuelo, altrettanto Garofalo, ovviamente la sorella, il primo ha 28 anni, la sorella è a 29. I militari della tenenza hanno eseguito un'osservazione nei confronti di Garofalo e nella sua abitazione vendeva sostanza stupefacente ad assuntori locali. Hanno eseguito quindi una perquisizione domiciliare e a seguito della quale è stata rimanuta un'ulteriore sostanza stupefacente. In particolar modo hanno sequestrato anche 600 euro, nascosti anche nel mobile del salotto lo stupefacente così come i soldi. Nella stessa circostanza Maria Consuelo Garofalo trovandosi all'interno dell'abitazione nel tentativo di opporsi alla perquisizione dell'abitazione ha scagliato calce e pugni contro un carabiniere e ha aizzato addirittura verso l'altro militare il proprio cane di grossa taglia che ha morso l'operatore alla coscia. I due carabinieri hanno riportato alcuni giorni di prognosi così come diagnosticato dal personale sanitario. L'attività dei carabinieri ha comunque permesso di sequestrare 12 grammi marijuana di cui 7 ad alcuni assuntori locali e 5 rimanuti nell'abitazione. I due fratelli sono agli arresti domiciliari. La monumentale villa comunale di Palazzola crede chiusa da oltre un mese. È in corso la rimozione degli alberi ammalorati che sono ancora di più aggravati a causa delle nevicate di gennaio. I lavori di sistemazione avviati il mese scorso nella villa comunale di Palazzola sono più che mai opportuni nessun allarmismo. Quindi, anzi, da anni veniva chiesto all'amministrazione comunale di risolvere alcune criticità. Questo è il messaggio lanciato a Fabio Morreale che è il presidente di Natura Sicula a proposito dei lavori iniziati un mese addietro a seguito anche della nevicata che ha accentuato i problemi e gli ammaloramenti negli alberi presenti nella villa comunale. Infatti gli alberi che hanno tagliato al piede erano troppo vicini ai viali avevano il tronco completamente cariato marcio, vuoto, incapace di garantire il giusto sostegno alla chioma da un momento all'altro si sarebbero schiantati al suolo con un grave pericolo per i visitatori. Alcuni esemplari devono ancora tagliarli ma basta osservarli per accorgersi, dice Morreale che sono in condizioni pessime. Il tessuto interno al fusto non c'è più oppure si sbriciola come segatura. Il vero patrimonio arboreo della villa è indenne nessuno dei tre alberi monumentali cioè il cipresso comune, il cedro del Libano e il leccio ha subito colpi di motosega e il bosco di lecci è il più rigoglioso che mai per i cipressi del muro d'ingresso viene auspicata la potatura dei rami che sporgono sulla piazza. Più volte, dice Morreale avevamo segnalato l'oblio in cui era caduto il busto del barone Vincenzo Messina soffocato da un'altissima siepe di bosso che oltre a nascondere il genius loci della villa delimitava un angusto corritoio continuamente frequentato a drogati e incontinenti. la siepe è stata tagliata e adesso il busto ha ripreso aria, la luce e la visibilità che meritava. Per completare il lavoro viene auspicato da Natura Sicula delle sabbiature per rimuovere i licheni che hanno incrostato presentemente il busto di pietra. Eccoci alla seconda parte del telegiornale la chiamavano Monaca Santa Suor Chiara Di Mauro era vissuta a Siracusa tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento era iniziato nel 1983 un processo di betificazione che riprende in questi giorni grazie all'iniziativa di alcune persone che abbiamo anche intervistato. Questo di cui vi parliamo è la storia di Suor Chiara Di Mauro che era una mistica siracusana vissuta agli inizi del Novecento e morta in odori di santità della sua vita dei fenomeni soprannaturali delle guarigioni prodigiosi avvenute su sua intercessione esiste un'ampia documentazione custodita all'archivio storico della provincia dei frati minori Cappuccini e all'archivio storico due cesane di Siracusa ma chi era la Monaca Santa? Sì, Suor Chiara Di Mauro era innanzitutto una nostra concittadina infatti nacque, visse e morì a Siracusa era una mistica cioè aveva ricevuto da Gesù dei doni soprannaturali il dono dell'estasi delle stimmate della comunione mistica il dono della profezia era appunto conosciuta dai siracusani del tempo come la Monaca Santa visse e morì in fama di santità Com'è che arriva lei a scoprire questa Santa Monaca vista che intanto è morta nel 1932? Sì, nonostante diciamo la storia di Suor Chiara è una storia contemporanea io l'ho conosciuta per motivi di studio sono laureata in scienze religiose ed è stato il mio argomento di tesi di laurea e mi sono accorta che si sapeva pochissimo di questa suora per questo motivo ho iniziato a documentarmi ho trovato presso l'archivio storico dei frati Cappuccino un ampio carteggio che negli anni 50 un frate Cappuccino padre Samuele Gultrer aveva raccolto proprio per dar conto della fama di santità di Suor Chiara nella speranza dell'apertura di una causa ed è a questi documenti che ho attinto sia per la mia tesi che per la pubblicazione del libro dal 1983 a oggi che cosa è successo? allora dal 1983 ad oggi è successo ben poco perché nell'83 la causa viene aperta anche grazie al contributo economico di una siracusana devota la signora Sirchia Vedova Leone viene aperta dall'arcivescovo Carogero Lauricella e alla morte dell'arcivescovo la causa di beatificazione ha una sua sospensione verrà ripresa qualche anno dopo per poi sospendersi nuovamente Monsignor Magnano che è morto recentemente in un suo volume scrive che la causa probabilmente fu chiusa per motivi economici noi si stiamo costituendo con un gruppo di amici in associazione proprio al fine di diffondere la fama di santità di questa suora siracusana che per i prodigi per i carismi ricevuti dovrebbe essere conosciuta non solo a Siracusa ma in tutto il mondo ci fa un esempio di un prodigio che ha fatto la monaca sanna? a Siracusa un bambino negli anni 40 affetto da paralisi infantile è ritenuto ingueribile da tutti i medici fu guarito per intercessione della suora e la guarigione avvenne subito dopo la fine della recita della novena alla Santissimo Crocifisso per intercessione di Suor Chiara quindi la guarigione è in dubbio che sia dovuta a Suor Chiara poi c'è stato anche un miracolo veramente in questo caso si può parlare di miracolo avvenuto a Modica a casa di un sacerdote la sorella nel Natale del 42 si ammala di tifo si aspetta il sacerdote per l'estremo unzione e in quel momento la signorina si accorge che la lampada accanto alla fotografia di Suor Chiara si era spenta e invita la cameriera ad andare a riaccenderla giunti vicino alla fotografia si sono accorti che la fotografia dava sangue vivo questo sangue si andava a depositare su un libricino di preghiere ovviamente la signorina guarì immediatamente la cosa incredibile è che questa fotografia con questo libricino e il batuffolo di cotone con cui fu pulita la fotografia sono tuttora custoditi presso l'archivio storico dei frati Capuccini adesso l'appello disperato di un padre per i propri figli che non vedo ormai da diversi mesi si è rivolto anche alla trasmissione la nuova trasmissione televisiva c'è posta per te ma nell'attesa si è rivolto alla nostra evitente per fare questo appello si presenta la nostra redazione e disperatamente ci chiede aiuto per avere notizie e riallacciare i contatti con i suoi tre figli è la storia del signor Giuseppe Russo di 50 anni originario di Caltanissetta una vita non semplice la sua situazioni che lo portano a dover rinunciare ai suoi figli dopo anni però riesce a trovarli e avere nuovamente un dialogo ma improvvisamente da mesi perde di nuovo i contatti dei ragazzi e oggi questo è il suo annuncio nella speranza che il messaggio produca il suo effetto cioè riavere anche solo un dialogo telefonico affinché possa chiarire la vicenda e sapere il perché del loro improvviso allontanamento il signor Giuseppe Russo ha anche contattato la redazione del noto programma C'è posta per te ma in attesa di una eventuale convocazione ha deciso di mandare il suo annuncio intanto a livello regionale tramite la nostra emittente Manuela Noemi Andrus come mai non vi fate sentire perché io ho sentito dire che avete parlato con la famiglia della mamma e forse vi hanno detto qualcosa sul mio conto se potete fatevi sentire e almeno chiariamo tutto o su Facebook oppure mi chiamate sul mio telefono Manuela Noemi ascoltatemi io non non ho fatto nessuna cosa di male sto cercando lavoro spero di trovare lavoro e di sistemarmi e spero anche di aiutarvi un giorno così almeno capirete che io sono vostro padre fatevi risentire se c'è qualcosa che non va chiariamo tutto io vi voglio bene non vi ho mai abbandonati siete sempre miei figli e io vi voglio un mondo di bene ieri abbiamo parlato dell'iniziativa del club del fornello per insomma dare ragionevole sicurezza alle massaie insomma si può cucinare in tutta tranquillità ieri la parola all'infettivologo Gatano Scifo oggi invece parla proprio la responsabile del fornello scongiurato il presunto caso di coronavirus a Siracusa e del problema si è discusso ieri sera al distaccamento aeronautico militare di via Lorina in occasione del convegno cucinare in sicurezza il club il fornello non si occupa soltanto di cucina la missione del fornello è quella naturalmente di mantenere intatte le tradizioni gastronomiche locali della famiglia del paese dove agisce dove opera però si occupa anche di quelle problematiche che potrebbero essere anche connesse per come lo sono anche all'alimentazione per cui qual è la problematica più importante di questi tempi e che ci interessa a tutti e tutti ci fa certe volte anche un pochino tremare è quella del coronavirus noi abbiamo pensato allora di fare il punto della situazione con un infettivologo di fama nazionale che è il dottore Scifo la preoccupazione maggiore nostra è quella di sapere se cucinando possiamo infettare noi stessi possiamo infettare anche gli altri se veniamo in contatto con qualcuno che anche se non lo sa è portatore sano diciamo di coronavirus veramente il dottore Scifo è stato bravissimo da per suo ci ha rassicurati ci ha detto che non c'è allarmismo alcuno e che in questo momento noi possiamo continuare tranquillamente a cucinare a ospitare i nostri amici naturalmente tenendo conto di tutte quelle che sono le normali norme igieniche che si usano in tutte le cucine siamo allo sport parliamo di calcio a Sigola Leonzio in emergenza si prepara alla trasferta di Monopoli sentiamo perché questa emergenza la soddisfazione di aver ottenuto un'importantissima vittoria in trasferta contro il Bisceglie diretta concorrente nella lotta alla salvezza in casa Sigola Leonzio viene mitigato dall'allarme infortuni infatti alle non perfette condizioni di Marco Palermo come di Giuseppe Maimone si aggiunge la defezione dell'esterno LIA uscito malconcio dal confronto in terra pugliese da valutare anche lo stato fisico di Filippo Scardina che colto dall'influenza di stagione non è tornato ad allenarsi ed è oltremodo debilitato dai postumi della febbre alta lo staff medico si sta adoperando per recuperare tutti magari con la possibilità di mettere i giocatori che sono in atto disponibili in condizioni di effettuare il lungo viaggio verso Monopoli dove la squadra si recherà in pullman da venerdì pomeriggio la Sicula torna dunque allo stadio veneziano di Monopoli dopo appena una settimana ma questa volta l'avversario sarà la super squadra dell'allenatore Beppe Scienza i biancoverdi pugliesi occupano la terza posizione in classifica e rappresentano di fatto il terzo incomodo nella lotta per il vertice che vede impegnato il duo di testa Reggina e Bari Mister Scienza ha dalla sua saggezza e competenza nonché un gruppo di calciatori costituito dall'ottimo direttore sportivo Massimo Cerri affamato di vittorie e con tanta voglia di emergere Giuseppe Fella ex Siracusa e bomber con ben 16 reti realizzate in questo campionato rappresenta l'epigono di un gruppo di lavoro ed un sistema di gioco oltremodo collaudato e spettacolare la Sicula Leonzio che viene da tre ottimi risultati positivi consecutivi sta lavorando in questa settimana ad un preciso disegno tattico e atletico che sia funzionale ad un match che si presenta per i bianconeri quasi insormontabile Vito Greco e il suo staff hanno preparato un piano di lavoro atletico che prevede un pressing di gioco sulla difesa avversaria e con una difesa a tre così come proposta a Terni con una linea molto alta ritiene il tecnico bianconero di impedire la capacità di palleggio dei monopolitani due allenamenti molto intensi sono in programma per oggi sul sintetico di Melilli con un terreno di gioco molto simile a quello di Monopoli pertanto il 3-5-2 che Vito Greco ha in mente per questo confronto in terra pugliese vedrà la scelta di uomini in campo che abbiano due caratteristiche peculiari la corsa spasmodica e la fisicità la Sicula Leonzio lavorerà fino a venerdì a Melilli per effettuare la rifinitura in Puglia nel primo pomeriggio di sabato gara Monopoli Sicula Leonzio che inizierà domenica prossima alle ore 15 Calcio di eccellenza campionato sempre più interessante e la città di Rosolini è in corsa per il primo posto Con tante big a darsi battaglia nel campionato di eccellenza regionale Girone B per ottenere la promozione diretta in Serie D tutte le gare assumono un'importanza fondamentale è il caso del prossimo big match che si disputerà domenica prossima alle ore 15 a Carlentini quando sarà di scena la vice capolista Sant'Agata i biancazzurri carlentinesi di mister Francesco Migneco avranno l'opportunità di consolidare la propria posizione di metà classifica ma battendo i tirrenici di mister Pasquale Ferrara rimetteranno in gioco la terza in classifica e cioè il città di Rosolini i Granata vengono da una convincente quanto sofferta vittoria sulla cicatena di mister Pasquale Serafino e il tipo di prestazione offerta da Capitan Luigi Ricca e compagni ha dato maggiori certezze alla compagine del presidentissimo errante i Rosolini dopo la vittoria di Palazzolo sta dando dimostrazione di compattezza tattica e di bel gioco a tutto questo si aggiunga la personalità spiccata di alcuni suoi elementi capaci di fare la differenza in qualunque momento della gara 15 vittorie e solo 4 sconfitte pongono i Granata in una posizione di graduatoria e di calendario di assoluto privilegio Monaco Messina Iuculano Franzino Mangione Agudiak e Ricca sono gli interpreti di un calcio essenziale come conferma mister Orazio Trombatore io penso che ci sia stata una sola squadra in campo la cicatena sicuramente grande voglia di fare sicuramente loro hanno un obiettivo importante che è quello della salvezza e sono convinto che saranno in grado di salvarsi senza problemi Adesso parliamo di pallavolo serie B2 femminile la Paumar Volley Siracusa perde contro il forte Torretta e scivola nella bassa classifica servizio Sul parquet della palestra Pino Corso a Cradina la Paumar Volley Siracusa deve cedere per tre set ad uno al forte Torretta Crucoli nella quindicesima giornata del campionato di serie B2 femminile le siracusane per questo delicato impegno casalingo cui si riferiscono le nostre immagini si proponevano con il seguente schieramento formato da Spena Lombardo Valente Tanasi Petta Ferracù Lamattina e Marangonna le avversarie calabresi allenate in questa stagione dal tecnico siracusano Luca Scandurra proponevano un sestetto di base composto di esperienza e gran classe con giocatrici come Chiesa Procopenco e Murru le giallonere Aretusee nel corso del primo set partono veramente bene esprimendosi con la conseta determinazione ma poi qualche errore e ricezione permetteva la rimonta delle ospiti primo set che si chiudeva dunque sul 26 a 28 nella seconda frazione il tecnico della Paumar Siracusa Camarana apportava qualche variazione nella rotazione delle ragazze Aretusee con la Marangonna nel ruolo di libero che alzava dovere per le compagne di prima linea ad un primo sostanziale equilibrio veniva fuori l'esperienza delle crotonesi che piazzavano un parziale di 7 a 0 chiudendo il set in loro favore per 13 a 25 terza frazione del riscatto per le siracusane con il capitano Spena capace di concludere a ripetizione dalla banda 25 a 21 il punteggio che portava la situazione set sul 2 a 1 nell'ultimo set però sono salite le percentuali di conclusione della calabrese Cristina Murro e per la Paumar Siracusa era notte fonda con un 14 a 25 che chiude il match in favore delle ospiti per 3 a 1 con questo stop la Paumar Volley Siracusa si ferma a quota 17 in quintultima posizione in classifica comunque le possibilità di evitare la zona play out per le siracusane ci sono tutte mister Camarana sa di avere un gruppo di atlete che sta lavorando con grande abnegazione e che sarà capace di superare con grande caparbietà ogni prossimo ostacolo sabato prossimo trasferta quasi proibitiva in casa della vice capolista Accademia Sant'Anna Messina si giocherà alle 18 alla palestra di Villa Dante con questo servizio si chiude il nostro telegiornale vi lasciamo come sempre alle previsioni meteo per quanto ci riguarda è tutto alla prossima arrivederci ben trovati a un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo giovedì dopo la perturbazione ritornerà l'alta pressione interessare tutte le nostre regioni solamente al mattino qualche residuo fenomeno all'estremo sud poi bello per un weekend con l'alta pressione super che dalla Spagna si impossesserà di tutta l'Europa meridionale e anche le temperature in quota proprio nel fine settimana saranno in netto aumento insomma inverno nuovamente al P-stop in realtà non l'abbiamo praticamente mai visto ecco la situazione delle precipitazioni possiamo notare come nel corso di giovedì non ci saranno grossi cambiamenti sull'Italia l'alta pressione si rinforza su un po' tutto il Mediterraneo solo qualche residuo fenomeno al mattino all'estremo sud sul basso adriatico e dorsale appenninica meridionale poi la perturbazione si allontanerà in maniera definitiva su Grecia e Turchia in sintesi la mappa dell'Italia una bella giornata con cieli sereni o poco nuvolosi abbiamo segnalato appunto sul basso adriatico e l'appennino meridionale al mattino qualche residuo fenomeno con clima ventoso e un abbassamento delle temperature tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.